Cambogia 2016. Siamo nella città di Sien Riep, la vecchia Angkor. Oggi visiteremo i tempi di Bang Mele, Prasad Pram ed infine Koh Kerr. E proprio davanti al tempio di Bang Mele ci accoglie un lunghissimo serpente Naga. E a Angkor la galleria grande come questo e poi c'è un altro piccolo vicino. Significa come fondolato. I terremoti e le radici della foresta hanno distrutto tutto. Grazie a tutti. 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 Tom. Ed ecco la piramide di Coker, realizzata su 7 gradoni e alta 32 metri. Raggiungiamo ora la sommità per fare qualche ripresa dall'alto. Musica Terminata la visita al tempio di Coker, raggiungiamo un locale per il pranzo. Simpatiche queste tovaglie e anche i piatti. Cosa c'è di più ecologico della foglia di banale? Vedi? Questa è l'esperienza. Voilà, carne! Finito il pranzo, si riparte. Stando attenti però alle mine, sì, perché ancora ci sono tantissimi campi minati. Si riparte dal tempio di Prasad-Chen. Grazie a tutti. 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 Visitiamo ora l'ultimo tempio della giornata, Prasad-Nyang-Khmau. Piedistallo si chiama Linga e anche guarda uno sopra. Linga, questo è Linga. Questo è Linga. E questo c'è di stallo, si chiama Yoni e sopra qua si chiama Linga. E così Linga è il simbolo falco, ma scrive. E' una pressata scivola. E' una pressata scivola. Sono arrivate le noccioline. E' il one on one. Adesso si Vabbè poi cambiate perchè noi i gamberetti Infatti lì con pepe ti ricordi che parlavamo di pepe Questo io comunque Non colava però Quindi con il pepe Ok, quindi di questo Metti, ok Grazie Quindi quello era il tuo in realtà Finita la cena si fa una passeggiata in centro Alla città di Sim Ria Alla città di Milano 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 Alla gale Alla cosa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti